Una testimonianza di riconoscenze di affetto per le diocesi. L'interessante bel volume Il cammino dei ciechi nella città di Ambrogio, edito dalla Fondazione Istituto dei ciechi di Milano, è questo, ma anche molto di più, nelle oltre 250 pagine, in carta patinata, con tante immagini, un'accurata ricerca di archivi e apparati documentari, che raccontano un rapporto definito, nel sottotitolo, un'alleanza virtuosa per il bene di chi non vede. Insomma, un volume, insieme prestigioso e gotibilissimo, per la cui presentazione presso la sede dell'Istituto arriva all'intanti, affolando la storica Sala Barozzi. Una sede voluta da tutti i milanesi, facoltosi e non, spiega subito il presidente della Fondazione, Rodolfo Masto. È bello raccontare le fasi più importanti della storia dell'Istituto in rapporto appunto all'aiuto che abbiamo avuto da parte dei sacerdoti e delle suore, in relazione poi al progresso che è stato permesso ai ciechi, in grazia appunto di questa loro vicinanza. Voi non siete solo un istituto importante all'avanguardia, avete anche un repertorio museale, archivistico per raccontare una storia. Sì, ecco, un archivio è un museo, è un percorso museale. Fra questi c'è anche il museo Louis Braille, dove sono conservati, diciamo, gli ausili che sono serviti ai ciechi per imparare a leggere e scrivere, ancora prima dell'introduzione del Braille e poi appunto degli archivi che raccontano tutti questi passaggi dell'Istituto che è stato sempre all'altezza dei tempi nel cercare di promuovere per i ragazzi che erano ospitati la migliore integrazione possibile. Dopo la lettura dei messaggi di Papa Francesco e del Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, a prendere la parola sono le archiviste, curatrici del saggio Enrica Panzeri e Melissa Tondi, che definiscono il senso della presenza ecclesiale nell'Istituto col ruolo chiave dei rettori e l'importanza del museo con i suoi tanti pezzi pregiati, come calici, reliquie, dipinti preziosi, manufatti, ma anche strumenti medici e diagnostici. E poi la volta dello storico Marco Berscapè illustra invece il rapporto tra Chiesa e assistenza ai bisognosi. Mario Barbuto, Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, da parte sua evidenzia l'importanza della presentazione. Se oggi la disabilità nel suo complesso gode di attenzione, rispetto e di diritto di cittadinanza, è perché all'avanguardia di questo movimento ci sono i ciechi che hanno voluto essere i protagonisti del loro destino. Infine, intervengono il notissimo giornalista Ferruccio De Bortoli e l'arcivescovo. Dobbiamo chiederci se oggi, spiega De Bortoli, in una Milano più ricca di quando nacque l'Istituto nel 1840, saremo capaci di creare una realtà come questa. Questa è una domanda che ci dobbiamo rivolgere tutti, insomma, perché alcune delle nostre grandi istituzioni della solidarietà milanese sono state fatte quando la città era molto più povera. Però grandi istituzioni come l'Istituto dei ciechi ci spronano a fare ancora di più. Il bene non è mai abbastanza. Oltretutto il bene crea retti. Pensiamo alla fondazione, quando sacerdoti di idee liberali comunque collaboravano all'interno di uno Stato molto organizzato austriaco e poi laici, privato, pubblico, per venire ai nostri giorni. Questa è una delle grandi caratteristiche milanesi, cioè quella di far incontrare, in questo caso sul terreno del bene, laici e cattolici. Addirittura c'è una sintesi tra i fermenti risorgimentali della prima metà dell'Ottocento e poi alcuni esempi di buona amministrazione austriaca. Per cui, insomma, nel capitale sociale le differenze si annullano e quando parliamo di beni comuni, i beni comuni sono anche la risposta alla cura delle disuguaglianze. A Milano la beneficenza non è l'elemosina. La beneficenza, invece, è il contributo alla promozione del bene di tutti. Quindi la beneficenza non è quella forma di delega che dice, va bene, insomma, una piccola offerta te la faccio, ma è invece l'interessarsi perché delle risorse siano impiegate perché si promuovano le persone, perché uno che è limitato non resti nel suo limite, ma esprima le sue potenzialità. Ecco, lo sforzo educativo, scolastico, professionale dell'Istituto dei ciechi di Milano dice questo. Ecco, il cieco può fare delle cose, quindi che le faccia e noi mettiamo le condizioni perché uno possa mettere a frutto le sue capacità. Ecco, a me premerebbe dire, forse questo istituto dice che c'è un modo di affrontare questo tema, come tanti altri temi che si collegano, in un modo forse un po' presuntuosamente originale, dove appunto la condizione è una occasione, una sfida, la ricchezza è una responsabilità e la beneficenza deve diventare promozione. Grazie.